ciao a tutti ragazzi sono alfi112 e quest'oggi vi farò un piccolissimo tutorial su come installare la patch per utilizzare le leggende offline sia in partiti amichevoli che nella master league mi raccomando seguitelo attentamente come prima cosa bisogna andare sul nostro pc vi ricordo che il link per scaricare questo questo file opzione lo troverete nella descrizione di questo tutorial allora una volta cliccato sul link vi scaricarà questa cartella leggende offline voi andate ad estrarre i file una volta estratto il file vi uscirà questa cartella voi cliccate sopra vi porterà in questa schermata copiate la cartella vpass e andate ad inserire all'interno della vostra chiamata usb una volta eseguita questa velocissima operazione chiudete questa finestra e togliete la chiavetta della dal vostro pc per inserirla nella vostra ps4 una volta inserita la chiavetta all'interno della vostra ps4 andiamo in impostazioni e poi applica ultimo aggiornamento live ricordatevi di spuntare solo aggiornamento squadre club prima di andare avanti ragazzi vi ricordo che per chi ha installato la v3 di pes unites con il precedente tutorial non c'è bisogno che faccia questo passaggio perché la leggenda ce l'ha già all'interno del gioco quindi questo passaggio potete anche saltarlo va bene quindi chi ha già la v3 può saltare questo passaggio spero che sia tutto chiaro successivamente andiamo su impostazioni modifica importa esporta importa squadra selezionate la vostra chiavetta usb cliccate il tasto quadrato e poi x spuntate su applica giocatore 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 squadra su sovrascrittura file immagine con nome uguale andiamo su ok e voilà il gioco è fatto mi raccomando voglio ricordarvi anche quest'altra cosa chi utilizza una ps4 pro avrà bisogno di una chiavetta usb 3.0 mentre chi utilizza l'altra versione di ps4 va bene qualsiasi altra chiavetta andiamo indietro così facciamo eseguire il salvataggio andiamo su modifica andiamo su giocatori modifica giocatori andiamo in fondo su squadre classiche ecco qui le nostre squadre classiche pesclassics dove ci sarà can puyol maldini cafu carlos pirlo pecam nedved maradona totti battistuta e tante altre leggende e poi su we classics dove ci sono tutte le altre leggende sono un bel po ragazzi ragazzi vi ricordo cosa molto importante che per utilizzare queste due squadre offline bisogna disattivare l'aggiornamento live ecco qua aggiornamento live no adesso avrete le vostre squadre leggendari mi raccomando se fate aggiornamento live si vi compariranno tutti i giocatori fake invece aggiornamento live no ci saranno tutte le vostre leggende andiamo a vedere ecco qua ecco qua ecco qua e il gioco è fatto eccole qua le nostre leggende adesso andrò a spiegarvi come utilizzare queste leggende sulla campionato master allora per utilizzare la leggende sul campionato master andate su impostazione modifica andate su trasferimenti selezionate la squadra che volete utilizzare all'interno del campionato quindi selezionato master facciamo così il chievo per esempio aggiungete le leggende che volete utilizzare andate su una squadra classica tipo io voglio becca aggiungi giocatore voglio Clivert aggiungiamone un altro un altro e voglio Totti Io adesso vi sto facendo un piccolo esempio ma voi potete sbizzarrirvi come volete Tipo ci sono alcune persone che hanno utilizzato queste leggende in varie squadre Quindi hanno scelto la loro squadra, hanno inserito 3-4 leggende nella loro squadra E poi hanno inserito varie leggende nelle altre squadre che partecipano al campionato master Così facendo anche nelle altre squadre c'erano queste leggende in modo tale pure da rendere il mercato più entusiasmante Quindi potete sbizzarrirvi come volete Adesso vi farò vedere come compariranno nel campionato master Andiamo indietro Ecco qua andiamo ad iniziare il nostro campionato master nuovo Formazione club con la squadra resistente Andiamo a prendere il nostro chievo Ovviamente qua non risultano le leggende perché c'è l'elenco dei giocatori più altri 6 giocatori che purtroppo non si leggono Abbiamo scelto una squadra con tantissimi giocatori Scegliamo il nostro allenatore, facciamo Pep Guardiola Andiamo avanti Eccoci qua ragazzi Andiamo in gestione squadra Schema di gioco Ecco le nostre leggende da poter utilizzare nel campionato master Beckham Ecco qua ragazzi Francesco Totti Klyvert E Beckham Sono all'interno della nostra squadra del campionato master Spero che questo tutorial vi sia stato d'aiuto Mi raccomando tempesteate di like il video Condividetelo con i vostri amici Ed iscrivetevi sul mio canale youtube attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati Grazie alla prossima Ciao ragazzi Ciao